Figlio dei doppiatori Franco Latini e Piera Vidale e fratello delle doppiatrici Laura Latini e Ilaria Latini, è noto per aver prestato la voce agli attori Zack Black in film come King Kong, School of Rock, Alta Fedeltà, Super Nacho e Tropic Thunder, Marlon Wayans in Scarimovie, Scarimovie 2 e Quel Nano Infame. Fra gli attori doppiati Chris Rock, Will Smith, Martin Loran, Johnny Knoxville, David Arquette, Phil Lewis in Zack e Cody al Grand Hotel, Zack e Cody sul Ponte di Comando e Un Papà da Salvare e Jake Gillenal nei Segreti di Brokeback, Mountain, inoltre ha doppiato famosi personaggi di serie animate come Remy e Remy le sue avventure. Oliver Utoni in Olli e Benji, Owen in A Tutoriality, L'Isola, Nelson e Carl Carlson nei Simpson, Gennai Giovanni in Digimon Adventure 02, Impmon in Digimon Tamers, Eddie D. Negli episodi della prima stagione di Ed, Eddie D&Eddy, Sonic e Shadow in Sonic X e il personaggio di Speedy Gonzales, dà la voce anche a Timothy MCG, personaggio del telefilm in CIS interpretato da Sean Murray. Come attore, ha recitato in film come Ultra e Fuocchi d'Artificio, e nel ruolo del giovane Papa Giovanni XXIII nella miniserie TV Il Papa Buono per il quale ha anche, ricevuto il telegatto, dal 2011 e una delle voci ufficiali di Virgin Radio.